La detta dei nostri legali è una sentenza unica in Italia, però noi ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo voluto fare questa battaglia fino in fondo. È una battaglia di diritti, è una battaglia che riguarda il nostro territorio, è una battaglia per la salute di tutti i cittadini del Basso Molise. Ancora un colpo di scena, il Consiglio di Stato ribalta quanto deciso dal Tar poche ore fa e accoglie il ricorso presentato dal sindaco di Termoli Francesco Roberti, dagli assessori e dalla maggioranza come privati cittadini e dall'associazione Cuore Molisano contro l'Aserem che ha disposto anche a dicembre un servizio a singhiozzo per l'assenza dei medici in grado di coprire la turnazione H24. Il ricorso è stato curato dai avvocati Pino Ruta, Massimo Romano e Margherita Zizza. Secondo i giudici del Consiglio di Stato, presidente di sezione l'ex ministro Franco Frattini, l'Aserem potrebbe inserire nella turnazione del Santimoteo medici di altri presidi ospedalieri. Il sindaco Roberti rivendica la tenacia con cui si è portato a casa il risultato. Io l'avevo già detto che questa sarebbe stata una battaglia giudiziaria lunga e per non esporre il Comune a continui conferimenti di incarichi allegali abbiamo deciso di intraprendere questa battaglia sia in maniera personale ma soprattutto per dimostrare che anche noi alla fine siamo cittadini di questo territorio e rivendichiamo il diritto che ha questo territorio ad avere un ospedale efficiente. E contestualmente sottolinea che un servizio essenziale come quello sanitario non può essere programmato per sentenza. Mi sembra quasi un continuo attacco non so se all'ospedale o alla mia persona perché dal giorno che mi sono insediato volevano necessariamente ridurre i servizi e reparti nell'ospedale Santimotio. Grazie.